Good morning Sì, qui sono le 10 Ecco, come dico in questi casi, certo, non proprio mattina prestissimo Una mattinata inoltrata, ma comunque mattina Mister, master, maestro No, semplicemente David Lynch, it's April 18, 2022 And it's Monday here in Naples And this moment seems a clear morning Very clear morning And very still right now 64 and 45 at around 18 Celsius And this means that it's that day really Really, really, really soft Like in this days and this period Sì, bene così Per quanto concerne il video Tutti i pensieri Non lo so se lo faccio Ma nel caso se lo faccio Ovviamente è sempre separato da questo Quindi occhio Anyway Asi and you will just see from the window I think that The temperature potrebbe salire Ma non lo so in realtà Per chi faccia una correzione Non è very still right now Perché c'è anche un vento abbastanza forte Un po' come ieri Però The really important thing It seems that With the atmosphere We are going to be enjoying Those beautiful Those beautiful Those beautiful Blue skies and golden sunshine All along the way Sì, vabbè Qua è meno ora rispetto a voi Perché c'è una mattina di inoltrata Bene così che dire in questi casi Rispetto a ieri Che era Avrei stato veramente brutto Per cui Say that this So from the mythical window With the orange, red, blue, green water curtain And it's Green Roller, shooter Behind me, on the top Not visible And in fact Any shot And finally For my mythical keyboard Yamaha digx 640 IPG IPG 625 Have a great day In mode people Follow the channel The reports Un saluto davvero a tutti And also I like to wish I would like to wish To everyone A very happy giorno Day after Easter And also I hope that you all Have a great breakfast Il nostro mago brontola Tra poco farò la colazione Non so il vostro se brontola Ma soprattutto spero Anche che la facciate con Those beautiful Easter eggs and chocolates Etc Sì Appunto ci vediamo al videoturse Nel caso lo faccio A domani Ciao 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 Tooo Grazie.